La sua carriera è partita dall'Aquila e all'Aquila ritorna come presidente di un'istituzione importante come il Conservatorio Alfredo Casella del Capoluogo. È Nazareno Carusi, un curriculum stratosferico, il suo abruzzese di celano è musicista e pianista di altissimo profilo. Ha suonato per le maggiori istituzioni musicali, con tanti dischi e successi, prima di interrompere la ricca carriera concertistica, poi ha rivestito in carichi di prestigio e più menageriali in un certo senso, ma animati da quello che considera il faro della sua vita, la musica. Il Casella è un'istituzione in salute che è cresciuto a moltissime e che sta lanciando anche progetti importanti, come il Casella si trasferisce in America e con la musica fa sentire il tempo, non l'età. La linea mi è dettata dal fatto che se ho avuto la fortuna della carriera che ho fatto è perché ho iniziato all'Aquila. Io l'ultima volta che sono entrato in Conservatorio all'Aquila avevo 15 anni e facevo gli esami di storia della musica e di armonia, con due miti della storia della musica, Alberto Pironti e dell'armonia Don Donato Martorella. Quindi arrivo con la promessa di studiare e di avere come unico faro il merito e la meritocrazia, il merito delle cose e soprattutto delle persone. Credo che sia l'insegnamento più grande che dallo stesso conservatorio io quando ero ragazzino ho avuto e quindi ho pensato che fosse questo il miglior modo di metterlo a frutto. Al di là della didattica e dell'attività tradizionale del conservatorio c'è in piedi il discorso della nuova sede. Ad oggi il conservatorio è ancora nella struttura provvisoria del dopo sisma e attende di spostarsi nell'ex Accademia dell'Immagine che ha acquistato. Non sarà una cosa velocissima, è stata appena nominata il RUP, ma di certo il trasferimento sarà molto importante per l'istituzione in termini di spazi.